Il cielo sereno che ha caratterizzato l'avvio dell'estate piacentina ha lasciato spazio a partire da stamattina al maltempo. Temporali sparsi hanno infatti interessato città e provincia, ma più in generale tutte le regioni del nord Italia. Maltempo che nel nostro territorio ha già causato diversi danni. Nella tarda mattinata di oggi infatti il centro di Fiorenzuola e le frazioni di San Protaso e Basilica Duce sono rimaste senza luce. Il motivo è legato a un fulmine caduto nei pressi di una cabina di distribuzione. I tecnici si sono subito messi al lavoro per la riparazione del guasto. I vigili del fuoco sono invece dovuti intervenire a San Bonico, frazione di Piacenza, per mettere in sicurezza una cabina elettrica in fumo, sempre a causa del maltempo. Due piante cadute inoltre a Fiorenzuola e La Verza. Nel frattempo però questa nuova ondata, oltre a fornire ulteriore ristore ai corsi d'acqua, sta portando anche una ventata di aria fresca utile a smorzare il caldo che negli ultimi giorni, soprattutto durante le ore diurne, era tornato a far penare i piacentini. Questo clima uggioso, secondo gli esperti di Meteovalnure.it, è destinato a perdurare per tutta la giornata di oggi. Anche se domani è atteso un miglioramento del clima, i prossimi giorni dovrebbero comunque rimanere all'insegna della variabilità, con possibilità di piogge sparse e intermittenti. A questo proposito, la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo. Rientrate nelle medie stagionali anche le temperature che si attesteranno sui 30 gradi di massima e 18 di minima. Verso la fine della prossima settimana, invece, sarà tempo di rinfoderare gli ombrelli. Potrà infatti tornare il tanto temuto caldo.